Buzzer Ciao a tutti io sono Mirko e oggi vediamo come impostare gli ESC come buzzer. Avere un buzzer installato sul nostro quad è fondamentale per riuscire a trovarlo velocemente in caso di caduta. Infatti perdere i punti di riferimento col volo FPV è piuttosto semplice e cadere sull'erba alta può farci perdere diverso tempo nelle ricerche se non siamo aiutati da un segnale acustico. Per questo è abbastanza comune avere equipaggiato un buzzer, ma oggi con le nuove tecnologie possiamo anche farne a meno. Infatti i nostri ESC sono in grado di suonare proprio come se fossero un buzzer. Vediamo adesso come fare. Per prima cosa è fondamentale avere degli ESC compatibili col protocollo di SHOT, quindi KISS, BLLIS o BLL32. La versione del firmware deve essere compatibile con i comandi di SHOT, quindi per quanto riguarda gli ESC BLLIS è necessario che siano aggiornati alla 16.67 o superiore. Gli ESC BLL32 invece hanno già dalla prima release del loro firmware questa caratteristica abilitata. Se avete bisogno di aggiornare gli ESC potete seguire la mia guida cliccando la scheda in alto a destra. Per quanto riguarda il Flight Controller è necessario avere il firmware Betaflight 3.2 o superiore. Il processore deve essere un F3 o superiore, in quanto gli F1 non supporta il protocollo di SHOT. Ora possiamo fare le configurazioni su Betaflight. Clicchiamo su connetti e andiamo sul tab CLI. Qui digitiamo la stringa SET SPAZIO BEEPER-BASSO DSHOT-BASSO BEECON-BASSO TON SPAZIO UGUALE SPAZIO 1 e premiamo INVIO. Poi digitiamo SAVE e premiamo di nuovo INVIO. Se non avete ancora impostato la switch nel vostro radiocomando andate nel tab MODE e su BEEPER diamo ADD RANGE. Qui scegliamo a quale canale AUX corrisponde la switch che vogliamo assegnare, nel mio caso la numero 2, poi scegliamo il RANGE. La mia switch è a tre posizioni e voglio che il buzzer suoni quando è nella posizione centrale, quindi lascio così com'è. Voi comunque impostate la seconda delle vostre preferenze. Infine salviamo e usciamo. Per concludere vi ricordo che gli ESC come buzzer funzionano solo quando gli si dà l'input tramite il switch e solo a motori disarmati. Quindi questa caratteristica si può usare solo come strumento per ritrovare il modello. Ad esempio il BIP di modello armato o disarmato o anche quello che ci segnala il livello di batteria scarica al momento non funziona anche se in un futuro potrebbe essere implementato. Se avete bisogno di queste funzionalità allora dovete usare il buzzer tradizionale. Bisogna precisare però che si possono usare contemporaneamente sia il buzzer tradizionale che quello dato dagli ESC. Comunque impostare gli ESC come buzzer presenta i suoi vantaggi. A seguito di impatti molto forti infatti il buzzer tradizionale può rompersi o addirittura saltare via, mentre gli ESC da questo punto di vista sono decisamente più affidabili e sicuri. Questo era il mio tutorial su come impostare gli ESC come buzzer. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video. Grazie per aver guardato il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere i suoi vittori. Grazie a tutti. Grazie a tutti